Eccoci qua, siamo arrivati al 10 del mese e siamo pronti per un aggiornamento per la nostra coperta annuale. Allora, io ho terminato la ventesima riga perché, come anticipato nel tutorial di febbraio, io avrei fatto due righe al giorno, quindi arrivati al 10 sono a 20 righe. Innanzitutto, a parte che è al contrario, innanzitutto mi piace tantissimo il fatto, cioè la resa di questo punto con questo sfumato, soprattutto perché mantiene una cromia con il giro precedente, nonostante sia molto diverso ovviamente, però tiene, diciamo, la delicatezza, cioè ci sta bene il contrasto tra la delicatezza di gennaio con questa, diciamo, frizzantezza di febbraio. Va in contrasto, ma un contrasto non troppo forte, che comunque rende bene. Inoltre, diciamo, dove sono io a Pavia, a febbraio, c'è stato un po' un clima, non dico primaverile, però un clima comunque molto bello per essere febbraio, soprattutto in questa zona. E in qualche serata ci sono stati dei tramonti bellissimi, proprio fucsia. Quindi è stato per me molto bello, perché appunto mi associa proprio al ricordo di quelle serate a questo mese. Allora, innanzitutto volevo partire da alcune considerazioni che mi sono state inviate proprio dagli utenti. Quindi, se riesco a disincastrare qua, ok. Molti hanno notato che iniziando a fare la lavorazione nuova veniva un po' ondulato, no? Poi, ovviamente, andando avanti col punto, la cosa migliora, perché ovviamente stiamo andando a cambiare un po' lo spessore da un mese all'altro. Quindi è normale un leggero ondulamento, comunque un leggero squilibrio da un passaggio all'altro. Però vedete, giro un po' così magari si vede meglio. Allora, io, come avevo detto agli utenti, ho fatto questa parte qua, che vedete un po' più, appunto, ondulata, e soprattutto in questa parte qua, che sembra quasi che si allarghi, non l'ho stirata. Mentre qua, sì, qua è stata stirata, infatti vedete che è molto più piatta. Allora, il numero di maglie di base non cambia, quindi di fatto la coperta non si allarga. Quello che potete notare, ad esempio qua, vedete che tende in questo passaggio a ristringersi un po' rispetto al punto. Questo perché? Perché il punto che abbiamo fatto nel mese precedente ha i bordi, diciamo, che tendono a girarsi su se stessi. Però, se vedete, se tirate un pochino il punto, soprattutto poi da stirato, sì, la cosa è molto, è proprio minima, no? Poi, ovviamente, alla fine della coperta noi andremo a fare un bordino. Quindi, ovviamente, se il dislivello è questo, questo è pre-stiraggio, quindi qua non ho stirato, è ovvio che a uno può venire qualche dubbio che comunque un bordo non si stema. Invece, se voi notate qua, vedete che è proprio una cosa semplicemente da, diciamo, tenere in linea. Perché, effettivamente, questo punto qua tende a rigirarsi un po' su se stesso e quindi fa questa piccola ondina qua. Però è una cosa molto minima, un bordo lo sistema assolutamente. È normale che, passando da diversi punti, i fasci, i blocchi del mese abbiano un po' di differenza. Quando poi, alla fine del progetto, andremo a creare il bordo, questa minima differenza andrà completamente annullata. Poi stireremo bene tutta la nostra coperta, insomma, verrà sicuramente un effetto diverso. Detto questo, io sono molto contenta del risultato che sta venendo. Vedete che in questi punti, adesso mi ha stupito anche il fatto che unendo due fili diversi, ci sono dei punti in cui le due colorazioni dei due fili separati che abbiamo unito prendono il ritmo l'uno con l'altra. Quindi ci sono dei punti, ad esempio questi, in cui sono dello stesso colore e quindi si alternano delle fasce un po' più dinamiche a delle fasce più piene, che tra l'altro ricordano proprio i tramonti. Quindi mi sta piacendo molto. Poi questa parte qua, che ho già stirato, non lavato ovviamente, però già stirato, mi ha tolto un ulteriore dubbio, perché vedete, avevo un po' il dubbio, questo l'avevo già detto proprio i primi punti del progetto, che questo filato fosse un po' peloso. mi lasciava un po' interdetta, perché comunque è un filato molto morbido, si lavora bene, eccetera. Avevo un po' solo il dubbio su questa cosa qua. Invece poi ho notato che già semplicemente stirandolo, la peluria, diciamo, è praticamente scomparsa. Quindi niente, fatemi sapere come sta procedendo il vostro progetto. Ho saputo che alcuni hanno deciso di proseguire con lo stesso colore di gennaio, anche per febbraio. Alcuni hanno scelto i colori completamente diversi, perché ovviamente anche in base a dove si abita, alla zona territoriale, eccetera, le stagioni e i mesi hanno ovviamente connotazioni diverse. E quindi sono curiosissima di sapere come sta procedendo il vostro lavoro. Io ovviamente proseguirò per tutto il mese e poi all'inizio marzo uscirà il video di marzo. Di solito lo faccio uscire proprio il primo, così siamo dirigenti e non ci scappa neanche un giorno. Niente, detto questo, era solo un piccolo aggiornamento di come sta procedendo la lavorazione. Intanto vi ricordo, oltre al solito, lasciare mi piace, iscriversi al canale per non perdersi i video, che sono tutte azioni molto importanti per me. Però c'è una piccola novità, ovvero che abbiamo, ho finalmente avuto il permesso da YouTube di implementare gli abbonamenti. Quindi adesso c'è la possibilità di fare un abbonamento, un abbonamento minimo, con una cifra molto piccola di 1,99 euro al mese, che però diciamo che aiuta, sostiene un po' il progetto sia per me per poter continuare a fare questi video che comunque occupano tanto tempo, tante energie, tante risorse e anche appunto per il materiale, eccetera. Oppure se volete c'è anche lo shop, che c'è sempre stato in realtà, però non potevo metterlo su YouTube, sempre per questioni che YouTube doveva avere dei requisiti minimi, eccetera. Invece adesso siamo riusciti a mettere tutto a posto, e quindi è possibile anche acquistare dei capi, quelli di cui avevo anche parlato nel video di spiegazione del progetto, con appunto il logo di Mami. Ovviamente sono tutte delle modalità per sostenere il progetto. Un'altra di queste modalità, se uno magari non vuole abbonarsi in modo periodico, ma vuole sostenere solo alcuni video perché gli sono piaciuti particolarmente, eccetera, c'è la possibilità anche di donare una piccola cifra anche solo al video. Infatti dove avete tutti i bottoni di condivisione, like, eccetera, c'è anche un'icona col cuoricino. Che cliccandola si può fare appunto una piccola donazione. Rimane appunto poi chi ovviamente non volesse o non potesse sostenere il progetto in questo modo. Ripeto, qualsiasi condivisione, il like, l'iscrizione, sono tutti modi utili per sostenere il progetto e anche, diciamo, permettermi di crescere in questa cosa e di riuscire a fare progetti sempre più complessi, che richiedono sempre più tempo. Quindi, tutto questo era giusto per aggiornarvi sulle ultime novità. Spero che questo progetto vi piaccia e che stia procedendo come desideravate. E niente, alla prossima. Grazie e ciao!